Il sindaco Pierluigi Biondi è più apprezzato dei suoi ipotetici avversari, ma il partito con più consensi è il PD. L'istituto Tecne, in collaborazione con l'agenzia Dire, ha scattato una fotografia delle intenzioni di voto in vista delle elezioni amministrative dell'Aquila previste per la prossima primavera. Il sondaggio si basa sulle interviste realizzate tra l'8 e il 9 novembre, rilasciate da mille persone, maggiorenni e residenti nel capoluogo abruzzese. Il risponso degli Aquilani è in linea con la tendenza nazionale. Se si votasse oggi, il primo partito sarebbe il PD con il 25% dei consensi, a seguire i Fratelli d'Italia con il 21,9% e a poca distanza la Lega con il 19,8%. Vi è poi Forza Italia con il 9% delle preferenze, mentre l'8,4% degli intervistati voterebbe altri partiti di centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è fermo al 6,9%, il 5,8% voterebbe partiti non riconducibili a due principali schieramenti, mentre l'1,9% sceglierebbe sinistra italiana e l'1,3% darebbe il proprio voto a partiti di centrodestra tra quelli non precedentemente nominati. Se gli elettori dei diversi partiti dovessero apprezzare gli apparentamenti, la coalizione con più preferenze sarebbe quella del centrodestra con il 52%, quella di centrosinistra, con anche Movimento 5 Stelle e sinistra italiana, avrebbe il 42,2% dei voti. Bisogna tener presente però che il 47,9% degli intervistati si è detto incerto o astenuto. Agli Aquilani è stato chiesto anche chi preferirebbero come primo cittadino in sei scenari diversi. Nel primo scenario, Biondi è contrapposto ad Americo di Benedetto del passo possibile. Nel secondo, lo sfidante e il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo. Nel terzo, il candidato e l'ex presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti. Quarta opzione con la deputata PD Stefania Pezzopane e candidata sindaco. Nel quinto scenario, lo sfidante è l'ex sindaco Massimo Cialente e nel sesto è l'ex parlamentare e sottosegretario Giovanni Lolli. In tutti e sei questi scenari, Biondi vincerebbe al primo turno, con percentuali molto simili tra le varie situazioni. L'attuale sindaco sarebbe riconfermato con percentuali tra il 51 e il 53%, mentre gli sfidanti si fermerebbero intorno al 30%, fatta eccezione per la deputata Pezzopane che guadagnerebbe il 34% delle preferenze. In ogni caso, l'astenzione sarebbe di circa il 45%, mentre un 15% degli intervistati voterebbe un terzo candidato. Nel sondaggio, agli Aquilani è stato chiesto anche un giudizio sull'attuale amministrazione in carica dalla 2017 su diversi aspetti della vita cittadina. L'azione del governo più gradita riguarda cultura e sport, con il 70% di giudizi positivi. Quella più carente riguarda i servizi ad anziani, disabili e soggetti fragili, dove il livello di gradimento è del 46%.